Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in questo nuovo video ASMR tema cinema. Alcuni di voi mi hanno chiesto quali sono i miei film preferiti e quindi ho deciso di parlarne in un video perché io amo il cinema, perché mi fa sempre piacere parlare di cinema. E ho scelto 5 film. È stato molto difficile perché di film che amo ce ne sono tantissimi, però alla fine ho fatto una lista e sottraendo, sottraendo, sono riuscito a lasciarne solo 5 che sono quelli più... che mi sono rimasti più dentro, quelli che hanno avuto un impatto più forte nella mia vita che ho rivisto tante volte all'arco degli anni e che sono i film più importanti della mia vita. Se riesco vi lascio giù anche il link a qualche pezzettino o il trailer, dipende da quello che trovo su YouTube, così per farvi un buon'idea perché alcuni di questi film non sono molto conosciuti. Allora, non sono messi in ordine di preferenza, sono messi in ordine sparse. Il primo film si chiama Zed Mikraski, che è un film cieco-slovacco e lo potete trovare anche come Taisys, cioè le margherite. Credo che su YouTube si trovi intero il film con i sottotitoli, in inglese, in spagnolo mi pare, non so se in italiano c'è. Comunque è un film pazzo, perché fa parte di un movimento cinematografico degli anni Sessanta, perché è un film del Sessantasei, di questa regista che si chiama Vera Chaiti Loma, un po' difficile da pronunciare. Comunque era un movimento cinematografico nuovo, sperimentale, quindi un film molto sperimentale, sia esteticamente che nella trama. E' un film anarchico, che parla di queste due ragazze, che si chiamano tutte e due Marie. Sono due giovani ragazze, totalmente contro le regole. E infatti il film inizia con un dialogo tra loro due, che dicono se il mondo è corrotto, allora lo saremo anche noi. E si buttano, diciamo, nella città. E il film le segue, non ha una trama proprio lineare, diciamo, fa vedere le avventure di queste due ragazze, che sono completamente ribelli. Loro vanno in giro a dare fastidio, a distruggere, a dare fuoco, a dare fastidio, a fare dispetti, sono un po' fuori controllo. E a mangiare. Loro vanno a mangiare, quindi stanno tutto il tempo, per esempio, dando appuntamenti a uomini più anziani, o comunque più grandi di loro, solo per farsi portare fuori a mangiare, e poi li scappano e li abbandonano. E insomma, sono due tipi un po' fuori in testa. È un film anarchico. È un film anche considerato un po' punk. E secondo me è anche molto ironico. E vale la pena vederlo, perché è completamente fuori dal comune, da quello che siamo abituati a vedere. Molto interessante, dategli un'occhiata. Il secondo film è Due o tre cose che so di lei, di Godard. È un film francese del 67. Se proprio dovessi scegliere un film, il mio film preferito metterei questo, perché veramente è un'opera d'arte, sia stilisticamente, sia esteticamente, che registicamente, insomma, da tutti i punti di vista, secondo me questo film è perfetto. E anche questo film non è una trama proprio lineare. Racconta, segue, nella sua giornata tipo, questa donna, che si chiama Juliette, che fa cose molto comuni, come, non so, camminare per strada, va al bar, per il caffè, se voglia una rivista, o va a fare shopping. Lei è madre e moglie. Contemporaneamente a queste sequenze, si alternano scene della città di Parigi, completamente sventrata, perché la stanno ristrutturando, perché la società comunque moderna, inizia a diventare più esigente, o la società dei consumi, quindi tutto viene rimodernizzato, ed è proprio un cantiere, un cantiere diventato a Parigi. e questa donna, infatti, per comprarsi cose frivole e superficiali, perché deve stare dietro a questa società dei consumi, si prostituisce con il consenso del marito, ma non perché hanno bisogno di mangiare, ma perché vuole fare shopping, o comunque comprarsi cose così frivole. Ma la cosa più bella di questo film è che di sottofondo tutte queste scene si sente la voce di Codard, il regista, che bisbiglia, e ogni cosa la analizza, la sventra per analizzarla proprio nel profondo, o provoca, o fa domande, o comunque ti fa vedere una cosa più banale, un oggetto, un colore, una scritta, un gesto, un atteggiamento, te lo fa vedere da un punto di vista più filosofico, più, non so, esistenzialista, comunque ti spinge a portare delle domande anche per le cose più banali, e ne esce fuori un'opera d'arte secondo me filosofica, estetica e cinematografica che penso sia perfetta. E il terzo film, forse lo conoscete di più, è The Dreamers di Bertolucci che uscì, mi parlo, nel 2003. e questo film parla di un giovane ragazzo che fa, o americano, che fa studiare a Parigi e conosce una coppia di due fratelli gemelli e fanno amicizia e condividono la passione per il cinema, infatti il film è pieno di citazioni cinematografiche. e finché un giorno, approfittando dell'assenza dei genitori, dei due ragazzi, loro lo invitano a trasferirsi per un po' a casa loro, a questo ragazzo americano. Che succede? Che il film è ambientato nel 68, che sono stati gli anni delle grandi rivoluzioni, e quindi proprio in quel periodo c'erano delle rivoluzioni, la città era un po' in subbuio, eccetera, però loro si chiudono dentro casa. Mentre fuori c'è la rivoluzione, loro decidono di chiudersi dentro casa per sperimentare, sperimentare emozioni, sperimentare il sesso, fanno giochi un po' strani, con penitenze, insomma, si crea un'atmosfera un po' ambigua, una specie di menace a troire, ed è come se in tutto il film la rivoluzione, che loro parlano tanto di rivoluzione, di politica, ma ne parlano soltanto in maniera utopica, perché alla fine non fanno niente. Cioè loro continuano la rivoluzione, vogliono cambiare il mondo, fare la rivoluzione, ma poi stanno chiusi dentro casa, mentre il mondo fuori lotta, e finché poi non sarà una pietra alla fine del film che sfonta la finestra a svegliarli dai loro sogni di rivoluzione. E sapete perché lo trovo molto attuale questo film? Perché mi fa pensare un po' a queste rivoluzioni che si fanno oggi, tipo su Facebook, condividendo un post, o cambiando l'immagine del profilo, o... Cioè a volte, secondo me, accade un po' questo, che la gente condivide le lotte, le rivoluzioni, stando chiusi in casa, tramite internet, magari lo condividono su Facebook, no? Sono indignato, ma poi alla fine quando c'è veramente da agire, non si vedono le strade a queste persone, quindi lo trovo un film molto attuale per questo motivo, però al di là di questo, secondo me è proprio bello. Poi il quarto film della mia classifica è Pink Flamingos. Benicotteri Rosa. Questo è considerato uno dei film più scioccanti della storia del cinema di John Waters, ed è un film del 72. È un film disgustoso, nel senso che è molto trash. Infatti lo consiglio a chi non è facilmente impressionabile, non perché ci siano cose splatter o niente del genere, però ci sono scene molto, ecco, molto disgustose, fatte apposta per disgustarti volere proprio di questo regista. E il film parla di una famiglia della protagonista è Divine. Divine era una drag queen che è stata la musa di John Waters per tanti suoi film. e questa Divine vive con la sua famiglia in una roulotte con sua madre e i suoi figli in una roulotte e loro sono appellati da tutti i giornali come la famiglia più disgustosa del mondo. E c'è un'altra coppia invece, una coppia di sposi che sono dei malavitosi che sono invidiosi di questo titolo e quindi loro vorrebbero essere i più disgustosi del mondo e quindi sono e si autoleggono nemici giurati di Divine e della sua famiglia perché vogliono loro il primato del disgusto. Quindi vi lascio immaginare quello che si vede nel film. C'è le cose più disgustose proprio che vengono spattute in faccia ed è fatto un po' a modi cioè la telecamera segue questi personaggi un po' come se fosse un reality o un documentario comunque e penso che l'intento sia riuscitissimo perché veramente alcune cose proprio ovviamente sono anche ironiche magari a me fanno ridere per esempio a me piace il trash però magari capisco che la persona che non ha preso del trash si può un po' storcere il naso sicuramente è un film indimenticabile se lo vedete e l'ultimo film della mia lista è il film della mia infanzia che si chiama Labyrinth e Labyrinth è un film di Jim Henson che è il creatore dei Muppets ed è un film dell'86 un film fantastico cioè nel senso genere fantasy è il film che mi ricorda di più la mia infanzia ed è un film stupendo con Jennifer Connelly e David Bowie parla di questa ragazzina che nonostante sia in età adolescenziale già è rimasta comunque molto un po' bambina dentro e non vuole crescere fondamentalmente e un giorno i suoi genitori la lasciano solo a casa con il suo fratellino piccolo anche più che in realtà il fratellastro e le dicono di badare al fratellino e lei non vuole allora esasperata quella notte dal pianto del suo fratellino invoca un po' giocando il re dei goblin chiedendogli di portarselo via che succede che questo re dei goblin che è David Bowie si materializza veramente e le porta via il fratellino al suo castello e le dice che se vuole riaverlo deve superare il labirinto che precede il castello che è un labirinto dove insomma ci sono trabocchetti personaggi di vario tipo stranissimi indovinelli tra l'altro in questo film gli unici attori diciamo in carne e ossa sono David Bowie e Jennifer Connelly tutto il resto sono pupazzi e io ancora oggi me lo rifletto ogni tanto perché c'erano in tv però al di là del fatto che sia uno dei miei film preferiti secondo me è proprio geniale come film oggettivamente sono geniali i pupazzi i personaggi come sono proprio disegnati nel senso creati immaginati comunque fatemi sapere quali sono i vostri film preferiti se conoscete qualcuno di questi film che ho elencato se li avete visti cosa ne pensate o se vi ha incuriosito qualcuno in particolare e se volete anche altri video magari dove parlo di altri film se no insomma rimane come video unico ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao